Musica Stiamo partendo per la nona tappa Destinazione Trascineto E la giornata è soleggiata Però c'è un vento fastidioso Freddo che viene dal nord E ci accompagnerà fino al paese Quindi avremo una buona compagnia Eh ben fatto, saremo in compagnia Ok Qualcosa da dichiarare? Partiamo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo concluso la nuova tappa, siamo giunti nell'abitato di Frascinetro, quindi la nuova tappa. Siamo a nove. Grazie a tutti. Siamo partiti da Belpotero Marittimo. Ti ricordi? Ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti.